E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di PES 2021 su MyClub Oggi andiamo a vedere cosa ci ha riservato Konami Tanti regali certamente, vi anticipo Allora abbiamo i pool da collezione delle leggende Poi a gente speciale ragazzi abbiamo due leggende in regalo Attenzione qua abbiamo i post brasilera Questi sono del campionato brasiliano Poi abbiamo qui invece il tridente del Milan storico degli olandesi Andiamo subito ad aprire la prima palla Questa qui d'argento come riscardamento E poi proseguiamo anche con qualche palla oro Allora MyClub vediamo un poco Inghilterra ragazzi, Inghilterra Ah, Aguero ci siamo presi E ragazzi con una palla argento ci siamo presi Aguero Mamma mia Buonissimo, buonissimo Questo ce lo teniamo Eccolo qua, Aguero benvenuto Poi proseguiamo con qualche palla oro Magari vediamo un poco cosa riusciamo a beccare anche qua Ci è andata bene, con un argento abbiamo beccato Aguero alla fine Vediamo, vediamo Italia E Italia cosa becchiamo di buono qui Qui al oro del Napoli Chi è? Zenischi della Polonia Questo non ci serve Ok, possiamo toglierlo via Arrivederci il grazie E poi proseguiamo ancora con un altro oro Poi andiamo a vedere invece Qualcosa riservato invece alle leggende Magari vediamo il pool Allora, vediamo un poco Spagna, 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 Spagna Vediamo palla oro Pallucas E Lucas Questo qua non ci serve tanto E possiamo anche convertirlo Questo qui in preparatore di esperienza Eccolo qua Togliamolo via Poi Allora Qua giusto per guardare Questo qua non penso Aprivo questo oggi Van Basten Raikard e Gullit Ok ragazzi Sono questi qua Andiamo subito Con il primo pool Perché ci hanno regalato qualcuno Vedete Eccolo qua Andiamo con il primo pool Della collezione Leggende Vediamo Vediamo se riusciamo a beccare una leggenda No Niente Però adesso Ok Spagna Vediamo Chi ci esce di buono Palla nera però Palla nera Attenzione Gimenez Dell'Uruguay Questo qua Convertiamo gli altri Ok via Questi qua Che sono veramente inutili Gimenez Uruguay Non ci serve Neanche questo Lo converto Ragazzi E ciao Gimenez Ok Proseguiamo Con un'altra Pool Delle leggende Vediamo se becchiamo Una bella leggendina Stavolta Niente leggenda Anche adesso Vediamo Vediamo Italia 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 Ora Abbiamo beccato Il Sanchez Dell'Inter Anche questo Non ci serve Però Quindi possiamo Convertire il tutto Questo qui Poi andiamo a far Allenare altri Giocatori Soprattutto In vista anche Degli europei Di calcio Che ci sono Quest'estate Che probabilmente Faranno dei matchday Dedicati Quindi Come vi ho già detto Fatevi una squadra Una nazionale Che volete fare Che ne so Francia Italia Qualcos'altro E cercate Il giocatore Di quella nazionale Andiamo subito però Con un'altra Palla oro Ok Palla oro Vediamo Vediamo Cosa becchiamo Di buono Qua My club My club My club E Spagna Di nuovo E Spagna Palla oro Valencia Questo è del Brasile Ok Ragazzi Non ci può servire A niente Questo qua Ciao Brasil E andiamo però Con la prima Leggenda Di giornata Ragazzi Che ci hanno regalato Andiamo a vedere Come sempre Profilo Allora Vedete Abbiamo Cruz Maradona Ciao Già Zico Can E' uno di quelli Che ci manca Che è già Un po' di tempo Che lo voglio Anche Ronadino Dicono Che è forte Però Bisogna Saperlo Usare Vedete Qua Agnesta Che ci abbiamo Già L'altro Potenziato Van Basten Anche Buon giocatore Viera Viera Questo Ottimo Anche Dicono Che Ha un buon Piede Qui Neved Ci abbiamo L'altra Versione Battistuto Ok E vabbè Ragazzi E poi A scalare Altri Ci sono Ok Quindi andiamo Con il primo giro Della leggenda Vediamo un poco Qui Becchiamo Stavolta Vediamo Vediamo My Club Legends Eldorado Via 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 Vediamo Vediamo Ok Fin qui Ci siamo Chi è Chi è Chi è Chi è Non riesco Ancora A capirlo Rivaldo Ragazzi E vabbè Vabbè Ragazzi Forse Ce l'avevamo Già Non sono Sicuro Comunque Me lo Tengo Abbiamo Beccato E Rivaldo Classico Numero 10 A posto Così Buono Così Andiamo Con un'altra Palla Ora Adesso Poi Abbiamo Anche L'ultimo Pool Da fare Vediamo Se riusciamo A beccare Qualche Pallone Nero Inghilterra 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 Vediamo Vediamo Manchester United Tejas Premier League Stiamo Beccando Anche Parecchi Brasiliani Sto notando Parecchi Brasiliani Adesso Mi servirebbe Qualcuno Per farmi Una squadra Nazionale Io In questo momento Ho più Giocatori Francesi Quindi Punterete Sulla Francia In questo momento Però Ancora Inghilterra Vediamo Un poco Allora Palloro Dell'Inghilterra Aston Villa Questo qua pure Non ci serve A niente E Conversiamolo Ciao Ciao Beh Andiamo A fare L'ultimo Pool Da Collezione Allora Ultimo Pool Dove Eccolo qua Genti Pool Da Collezione Eccolo qui Via con L'ultimo Vediamo Vediamo Se ci va bene Stavolta Con una leggenda Eh sì È leggenda Stavolta Vediamo Vediamo Entriamo Nello stadio Chi è Chi è Chi è Chi è Chi è Chi è Bebeto Vabbè Va bene Così Bebeto De Brasile Ok Ah Abbiamo Beccato Però Kim Bempe Questo è Buono Questo qua È buono Me lo tengo Per la Francia Del PSG Ok Ragazzi Un'altra Leggenda Beccata E andiamo Dunque A spaccare L'ultima Leggenda Questa Sicura Che ci hanno Regato Via con L'ultimo Giro Vediamo Vediamo Un poco Chi Becchiamo My Club Allora Da un can È l'unico Che vorrei In questo momento Ma mi sta Dino Non è portiere Ok E Neved Ragazzi Abbiamo Beccato Neved Anche qui Ed eccolo Qua Il Pavel Neved Repubblica Seca 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 Ragazzi Qua Sto spagnoliggiando Un pochino Vabbè Però Ok Anche questo Buon giocatore Comunque 98 E resistenza Non male Non male Se lo teniamo Per bene Anche Può diventare Ancora Meglio Sto giocatore Ok Bene ragazzi Per oggi È tutto Abbiamo beccato Un paio Di leggende Insieme Anche qualche Pallone Nero Niente male Tipo Aguero Con un pallone Argento Tra l'altro Quindi Ci è andata Benissimo Di lusso Per oggi È tutto Ci vediamo Al prossimo Video Come sempre Vi ricordo Di iscrivervi Al canale Per rimanere Sempre aggiornati Sulle pubblicazioni Del canale E ciao A tutti